ma quasi cerca di ricostruire quindi tutto il percorso che ha portato a a a a che gusto c'è ve lo dico subito vi lo vedo il giochetto aspettate un attimo a bestia aspettate un attimo a voi in alto insieme i 100 iscritti e sotto attivate la campanella sempre se questo si mantiene bene grazie qua sotto piracovado per ogni aggiornamento del canale per notifiche il canale super grazie di cuore ognuno di voi bene 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 allora no momento fermi fermi qua cercano di ricostruire la vicenda che ha portato a questa scelta di giorgio menoni che si è parlata con tagliani gioia e sinistra dicono che tagliani un po in imbarazzo tagliani è molto imbarazzato che questo non è essere moderati questo essere un po troppo di destra e quindi guardare solamente il lato negativo non il lato bianco o azzurro in questo caso della questione un europa e wonderland perché giorgia meloni ha votato no è che sta stimolato ho detto no non ho votato parato con i miei non abbiamo ho detto no semplicemente perché non sono d'accordo e non siamo d'accordo con il metodo che utilizza wonderland e anche con la sua mentalità però comunque continuiamo a collaborare l'ultimissima sentite un po qua dicono che trump e meloni abbiano già parlato allora vi spiego come si collega la cosa nel senso che trump lui è un repubblicano lui è uno di destra lui avrebbe già la vittoria in tasca uno per uno perché comunque era già un pochino in vantaggio rispetto a biden ma se c'era un 50 poi biden si vede un po invecchiato quindi fa un sacco di gaffo un po troppo l'abbiamo notato tutti figuriamoci gli americani e poi anche quello sparo che ha avuto l'orecchio quindi gli porta ulteriori voti questa cosa va là questa cosa e se avrebbe parlato con meloni che avrebbe un alleato di grido in più cioè io dico no però intanto c'è trump che comunque è repubblicano ed è un repubblicano di destra a destra un po come sono io adesso che arriva lui voglio vedere che cosa mi dite l'unione europea senza anche l'ultima parola che può avere donald trump va là eh ragazzi questa però è fantapolitica parliamoci chiaramente sì ci ho pensato pure io tanto comunque adesso arriva trump è abbastanza scontato dai sembra abbastanza scontato che tornerà trump al potere e quindi la meloni avrebbe un alleato mica da ridere in più gli stati uniti d'america già sono seriati poi tra meloni tra con l'ascesa dei dei conservatori soprattutto l'ascesa dei patrioti europei la von der leyen è quella messa peggio non è stati i voti comunque messa peggio perché si è dovuta alleare con una piccola parte di verdi rossi eccetera che se la paragoniamo invece a patrioti o conservatori catacrisma è un abisso la distanza tra loro ovviamente in favore dei patrioti dei conservatori eventualmente in favore di trump vabbè insomma è fantapolitica per come la vedo io per come la vedete voi che ci sta a fare youtube che ci sto a fare io vedete me la vostra appunto nei commenti ciao ciao ciao